Tutelare per legge i muretti a secco, tipici della provincia di Ragusa, del Val di Noto e del resto del sud-est siciliano. La proposta viene dal deputato regionale LPD, Pippo Di Giacomo, che ha presentato un disegno di legge all'Arsa insieme ai colleghi Rayad, Benedictis, Di Guarda e Marziano. Attraverso questo disegno di legge, spiega l'onorevole Di Giacomo, si intende impegnare la regione a sostenere le spese legate a investimenti di ripristino dei muretti a secco, compresa la loro ricollocazione in caso del riordino delle coltivazioni, salvaguardando così una delle caratteristiche tipiche di questa nostra bella terra. Di Giacomo, inoltre, aggiunge che non si tratta solo di tutelare il paesaggio e valorizzare la bellezza del territorio. All'interno dei muretti a secco, infatti, vivono molti piccoli animali, soprattutto rettili e anfibi, utilissimi a combattere i parassiti. Con una sola proposta di legge, quindi, Di Giacomo dichiara guerra all'abbandono e all'incuria, alle zecche, alle pulce e alle zanzare.